Avete visto quello che è successo in Francia a proposito del simulacro della democrazia? Intendi le elezioni di Le Pen? No, 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 il post, la decisione del Presidente della Repubblica che per 15 giorni ha approfittato delle Olimpiadi per sospendere il tema. Ma finito le Olimpiadi, c'erano poi anche le Paralimpiadi, un po' la tirata lunga anche con le Paralimpiadi. Dopodiché ha messo in piedi un meccanismo tale per cui i risultati delle elezioni sono stati assolutamente stravolti, annullati. Adesso lo dico perché a proposito dei meccanismi democratici, di questo sistema di valori che poi riconduciamo alla democrazia, ma nel cuore dell'Europa accade un fatto assolutamente mostruoso dal punto di vista dei meccanismi democratici. Chi ha vinto le elezioni non ha avuto la possibilità, dalle forme istituzionali possibili, la formazione di un governo di minoranza da sottoporre al valio del Parlamento e dell'Assemblea Nazionale, di ottenere la possibilità di governare, di fare il governo. Mi sembra che da questo punto di vista sia scoraggiante rispetto ai temi della cittadinanza attiva, del fare le cose, ma non lo so. Scusate se introduco questo tipo di dissonanza rispetto al clima. Non è una dissonanza. No, ma alcune delle voci mi sembrano maggioritarie peraltro attorno a questo tavolo.